Nome Yeman Everhan Letizia Cognome Crippa Paternoster Età 22 19 anni Sport praticato Atletica leggera Ciclismo Su strada e su pista Soprannome Yeman Pater Diventa telecronista per un giorno. Commenta per noi questa prestazione. Vediamo la parte finale della gara. Escono dalla curva Letizia e Prima. Vedo che le sta staccando tutti. Eccola, ha vinto. Grande Letizia. Crippa in testa. La falcata è ottima. E andiamo. Andiamo a vincere. Mano a carta e pennarello. Ai 10 secondi per riprodurre il logo del Festival dello Sport. Vediamo chi dei due lo disegna meglio. 3, 2, 1 Yeah, man. Hai perso. Lo sai che il record sarà il tema della prima edizione del Festival dello Sport che si svolgerà a Trento dall'11 al 14 ottobre? Ovvio che lo so. No, aspetta. Ma cos'è il record? Qual è il record che vorresti battere? Prendere la patente. Oro olimpico. Magari più di uno. Ora, fai una faccia da record? Postala sui tuoi canali social e tagga il Festival dello Sport. Grazie ragazzi. Ci vediamo al Festival dello Sport.